E vi posso dire che l'ingrediente principale di questa notte ha proprio l'uva, ha proprio il formaggio, ha proprio il capucino, ha proprio la panna, siete mori, ok? Quindi un ringrazio a tutti quanti, allora mia non vi chiede, restate così e non cambiate mai, perché siete un milione pubblico che siete più di me, e forse anche in Italia. Perfetto, basta. Siamo arrivati a Canale Italia, in diretta nazionale, li porteremo lì e vi posso cambiare la promessa che vogliamo mantenere, per la loro propria vita, la loro professionalità e soprattutto la loro grande disponibilità. Signore e signori, vi chiedo veramente un grande applauso e un elogio a questo mito che non tra lontano della noi, grazie a questi straordinari personaggi. Ringraziamo insieme alla loro, Jackson Lenzi! Ringrazio, 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 Ring Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.